Fofo, domani si gioca una partita importante, e qual'è? Milan-Liverpool Milan-Liverpool Puh, puh, puh Perché fai così? Perché un Milan è più forte di Liverpool E quindi? E quindi puh, puh, puh E quindi deve vincere un Milan tra 2-0 O tra 2 o ci saranno i cacci di rigori alla finale Ma tu sei gioventino, ci sarai ad Atene? Io sono gioventino, ma io non ci sarò ad Atene Perché per rispetto della squadra mia che sono gioventino Per rispetto della Juve Però io avviso a tutti italiani Che siamo italiani, non siamo turchi e arabi Bisogna di fare per questa signora squadra del Milan Che neanche la mia squadra ce l'ha fatta la Juve Avere nuove coppie dei campioni E, e... Quindi il Milan deve vincere e il Liverpool le perderà? Puh, puh, puh Comunque il Milan deve vincere e il Liverpool le perderà Dobbiamo essere sportive Non dovete fare contro la squadra vostra che è italiana Perché siamo italiani Come ha detto Mussolini Siamo italiani Non siamo picoroni E quindi Se tu sei l'interrista, Angelo Roppolo Pavolo è milanista E io sono gioventino E l'Inter gioca contro Mettiamo l'altra squadra Contro il Liverpool le mettiamo, no? E io devo fare contro la tua squadra Che italiano sono? Sono un italiano traditore Quanto finirà la partita? 2 a 0 hai detto poc'anzi? Sì, poc'anzi ho detto 2 a 0 per Milani Quindi, quindi, e, e... Quindi, e, e... 2 a 0 Per Milani Contro Iberpulli Puh, puh, puh Puh, puh, puh Grazie.